brava pure bravissima 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 brava 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 per la prima volta sta avendo un contatto con un tartufo fresco naturale la molecola la conosce già e così facendo andiamo a lavorare direttamente sulla funzione secondaria o gioco predazione quindi molto probabilmente lei non si ciberà mai di tartufi ma le andrà a ricercare solamente per la molecola olfattiva non c'è mai una seconda opportunità per fargli fare una prima esperienza è una cagnolina nostra ce l'abbiamo già da un mese da più di un mese sta facendo tutto il percorso educativo stiamo rispettando i suoi tempi di crescita sia in maniera psilica che fisica in maniera parallela fa sia l'educazione di base che l'orientamento sul tartufo brava amore brava brava botta doma 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 vai doma doma bravissima amore brava brava adesso stiamo iniziando a far trasporre la possessività sul riposo che sono due cose vicine che spesso vanno confuse ma inizialmente si lavora sulla possessività dentro dai 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 dai